Buonasera, ben ritrovati ad un nuovo spazio dedicato all'informazione dal territorio. Uno sci alpinista alto a Tesino è in gravi condizioni. Dopo essere stato travolto da una valanga sul Monte Cristallo, la Slavina si è staccata in zona Cresta Bianca. Sul posto sono intervenuti l'elisoccorso di Pieve di Cadore assieme al soccorso alpino che ha recuperato l'uomo. Il ferito è stato ricoverato all'ospedale di Brunico. Per la campagna elettorale a sindaco di Venezia non ho mai ricevuto somme di denaro dall'ex presidente del consorzio Venezia Nuova Giovanni Mazzacurati. Né da altri. È un'invenzione pura. Sono queste le parole dette dall'ex sindaco di Venezia Giorgio Orsoni, imputato nel processo Mose per finanziamento illecito dei partiti. Che secondo l'accusa forte delle dichiarazioni di Mazzacurati del suo segretario Federico Sutto avrebbe ricevuto oltre mezzo milione di euro nel 2010, di cui solo una parte regolarmente registrata. Orsoni è comparso davanti al collegio del Tribunale di Venezia presieduto da Stefano Manduzio dove alle domande del pubblico ministero Stefano Ancillotto ha risposto con molti. Può darsi forse, non ricordo, ma sottolineando come il suo rapporto con Mazzacurati, datato precedentemente alla sua candidatura a sindaco e del tutto professionale, sia andato guastandosi nel tempo per una visione diversa sull'operato rispetto al Mose. E adesso invece cambiamo argomento, dobbiamo parlare di un gravissimo incidente avvenuto nella tardo pomeriggio di ieri in provincia di Padova, un incidente che ha provocato quattro feriti, ma purtroppo c'è anche una vittima, un noto avvocato Vicentino. Un morto e quattro feriti è il bilancio di un incidente stradale avvenuto mercoledì sulla strada Postumia regionale 53 a San Pietro in Gu in provincia di Padova. Nel sinistro sono rimaste coinvolte quattro automobili e un mezzo pesante. La vittima, un noto avvocato della provincia di Vicenza, Giorgio Beggiato, 55 anni. Le auto si sono aggrovigliate tra loro, numerosi soccorritori presenti. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza i veicoli e collaborato con il personale del SUEM nel soccorrere il passeggero che viaggiava nell'auto insieme alla vittima, il più grave dei feriti. La circolazione è stata deviata su altre strade. L'incidente è avvenuto all'altezza dei mangimifici veronesi. Si tratterebbe di un maxitamponamento, ma la dinamica dovrà essere ricostruita. Gli atti dell'inchiesta Rubiter relativi alla posizione di Giovanna Rigato di Vittorio Veneto, indagata per corruzione in atti giudiziari trasmessi da Milano nell'aprile dello scorso anno alla Procura della Repubblica di Treviso, sono stati restituiti ai giudici del capoluogo Lombardo. Lo ha detto il procuratore di Treviso, Michele Dallacosta, precisando che la trasmissione del fascicolo è stata determinata da una richiesta di restituzione degli atti avanzata dalla stessa magistratura milanese. Lo stralcio dell'inchiesta riguardante Giovanna Rigato era stato inviato a Treviso per competenza territoriale nella primavera dello scorso anno dal gruppo milanese Laura Marchiondelli. Il procedimento avviato nel capoluogo Lombardo in origine riguardava l'ex premier Silvio Berlusconi ed altre 30 persone, ma nell'aprile scorso era stato suddiviso in più parti. I carabinieri hanno arrestato un giovane trevigiano di 23 anni con precedenti perché sospettato di essere uno degli autori di una rapina ai danni di un cittadino di Castello di Godego lo scorso 4 dicembre. Nella stessa indagine è stato denunciato un secondo soggetto coetaneo e con vari precedenti, pare per aver partecipato alla stessa rapina. Nell'episodio un furto in abitazione trasformato in rapina per l'improvviso rientro a casa del proprietario, minacciato con un cacciavite e spinto a terra erano stati rubati oggetti preziosi e denaro contante. A Feltre un'impresa di scavi per costruzioni civili ha danneggiato oggi una tubazione della rete di distribuzione cittadina del gas al servizio di due condomini. In via precauzionale alcune persone presenti nelle abitazioni sono state fatte evacuare. I tecnici di tal gas insieme ai vigili del fuoco sono intervenuti sul posto, hanno messo in sicurezza la condotta danneggiata. Tutti i residenti quando poi l'allarme è rientrato sono tornati nelle loro case. Adesso parliamo di un'indagine di quattro ruote che è stata diffusa oggi. Ha ordinato le città italiane per valore delle multe elevate. Sentite la posizione di alcune città venete. Padova è la città italiana che si classifica al secondo posto in Italia per valore delle multe elevate. L'indagine è stata realizzata da quattro ruote. La prima posizione spetta a Milano con 157 milioni di euro di multe nonostante un calo di quasi il 22% degli incassi. Padova si posiziona invece al secondo posto nella classifica italiana delle multe pro capite con 92,30 euro seguita a stretto giro da Parma con 90,78. In Veneto Treviso si piazza dopo Firenze, Bologna, Lecce, Pisa e prima di Brindisi e Pistoia. Scontro tra un tir e un'automobile sull'A4 questa mattina alle 8.30 tra San Giorgio e la Tisana. Nell'impatto la macchina si è incendiata in pochissimi istanti. La donna che era al volante è riuscita a mettersi in salvo scappando dal veicolo che stava bruciando. Immediatamente il traffico si è bloccato e si è creata una fila che ha raggiunto i 4 chilometri di coda. Sul posto sono intervenuti numerosi mezzi di soccorso. La donna ha riportato ferite lievi. Una vecchia casa colonica disabitata a Codognè è stata distrutta da un incendio. Le cause sono ancora al vaglio dei tecnici per capire cosa sia accaduto. Sul posto i vigili del fuoco hanno lavorato per tantissime ore. L'abitazione composta da tre piani fuoriterra ha subito dei crolli parziali. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Adesso parliamo di educazione alla legalità economica. Incontro tra gli studenti e la guardia di finanza. Un nuovo progetto che coinvolge le scuole. Allora vediamo e sentiamo alcuni dei momenti che si sono svolte in un istituto padovano. Cultura della legalità economica. Questo è il tema discusso ieri in un incontro che si è svolto all'istituto tecnico Calvi di Padova tra i ragazzi e la guardia di finanza. Obiettivo dell'evento quello di far maturare la consapevolezza del valore della legalità economica con particolare riferimento alla prevenzione dell'evasione fiscale e dello sperpero di risorse pubbliche, delle falsificazioni, contraffazioni, nonché dell'uso e dello spaccio di sostanze stupefacenti. L'iniziativa trae origine dal protocollo d'intesa tra il comando generale della guardia di finanza e il ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, finalizzato a promuovere nell'ambito dell'insegnamento cittadinanza e costituzione, un programma di attività a favore degli studenti della scuola primaria e secondaria. All'iniziativa è abbinato un concorso denominato Insieme per la legalità, che ha lo scopo di sensibilizzare i giovani tramite il coinvolgimento delle scuole sul valore civile ed educativo della legalità economica, nonché in merito alle attività svolte dal corpo in questi settori, favorendo la loro espressione libera, creativa e spontanea sulla tematica. L'incontro al Calvi è stato ottenuto dal tenente Vanessa Senatore e proseguiranno nelle più importanti scuole di Padova e provincia, grazie anche al supporto dell'ufficio scolastico provinciale. Un orafo vicentino che vendeva attraverso televendite gioielli spacciati per antichi è stato denunciato dalla Guardia di Finanza. In realtà tutto era prodotto in laboratori napoletani. Secondo le fiamme gialle avrebbe venduto oltre 3.000 oggetti preziosi pari ad un importo complessivo di quasi 3 milioni di euro. I clienti erano costituiti prevalentemente da persone anziane appassionate di televendite dislocate sull'intero territorio italiano. Ciascun pezzo aveva un valore che superava anche i 5.000 euro. Uno sguardo alle condizioni climatiche si approfondisce da nord sul continente europeo, una saccatura d'aria relativamente fredda in quota. Il suo transito nella nostra regione, previsto per sabato, sarà preceduto da nubi con un po' di precipitazioni previste in particolare nella seconda parte di venerdì. A quel punto inizierà una ventilazione da nord orientale che sabato si associerà a rasserenamenti con ripresa dell'escursione termica. È tutto per questa edizione, ringrazio tutti voi per l'attenzione e vi auguro una buona serata. Rimanete con noi. Rimanete con noi.